Il magnesio è un minerale essenziale, nel senso che è coinvolto veramente in tantissime reazioni all'interno del corpo e quindi è importante assicurarsi che a livello giornaliero si raggiunga il fabbisogno. Il problema qual è? È che c'è veramente tantissima disinformazione dai quattro influencer scappati di casa che tantissime persone continuano a seguire online, che hanno il conflitto di interessi perché il loro brand gli paga lo stipendio o gli dà il codicino sconto e quindi poi tantissime persone finiscono per essere confuse e non sapere come andarlo ad utilizzare. Questo video è qui, per questo andiamo a vedere tutto provato scientificamente, ti mostrerò tutti gli studi in modo tale che una volta per tutte tu non abbia più dubbi. Ora, se è la prima volta che vedi un mio video, scusami, sono abbastanza inferocito ma perché continuo a ricevere domande da persone confuse sul magnesio quando in realtà è una tematica abbastanza semplice, già affrontata tante volte ma siccome ci sono tantissime persone che fanno disinformazione, le persone finiscono per essere confuse. Comunque, piacere, il mio nome è Edoardo Baldini, da lontano 2016, giorno dopo giorno, video dopo video ne pubblico uno al giorno, quindi sono più di 3000 video affronto l'integrazione senza mai essere stato sponsorizzato da un brand integrazione senza mai aver promosso nei miei video un codice sconto. Qui siamo sempre andati a vedere ciò che gli studi ci dicono e lo siamo andati ad applicare nell'integrazione di tutti i giorni. Ora, come dicevo, in questo video voglio andare ad affrontare le 7 tematiche più comuni quindi 7 dubbi più comuni in modo tale che tu, una volta chiuso il video, tu sappia letteralmente tutto. Punto numero 1. Quali sono i benefici del magnesio? Ora, dovete tenere in considerazione che il magnesio è coinvolto in centinaia di reazioni ma fra le principali abbiamo sicuramente il fatto che sia coinvolto nella produzione di energia per il corretto funzionamento del sistema nervoso per la regolazione della pressione sanguigna per il corretto livello degli zuccheri nel sangue per la sintesi di DNA e di proteine per la salute ossea per la sintesi e l'attivazione della vitamina D di cui ho già fatto anche tanti video sappiamo la sua importanza e quindi capite che relazione stretta abbiano magnesio e vitamina D infatti è importante averle insieme ai giusti livelli e abbiamo anche visto come una carenza di magnesio sembrerebbe, stando alle informazioni scientifiche, avere un impatto negativo negli uomini in un'ottica di testosterone quindi comunque, con tutte queste cose qua magari il non essere carenti di magnesio è una buona cosa questione numero 2 ne hai bisogno? stando agli studi circa il 50% della popolazione finisce per essere carente vuoi perché la selezione degli alimenti magari è limitata vuoi perché gli alimenti che si vanno a mangiare non sono così tanto ricchi di magnesio e quindi la risposta è che molto probabilmente si potreste averne bisogno e come si fa a capire se se ne ha bisogno oppure no? sicuramente un punto numero 1 è andare a valutare la propria alimentazione quindi andare a mettersi lì tracciare una settimana tipo quindi cosa mangiamo di solito andare a calcolare quanto magnesio ci sia in ciascun pasto più o meno capire se il quantitativo settimanale sia corretto oppure no ma non è che dobbiamo stare lì ai 10 mg di magnesio dopo parleremo anche di dosaggi giusti però l'importante è quantomeno arrivarci vicini punto numero 3 ed ho sentito parlare di tante forme di magnesio e sento tanti influencer e qui li aggiungo io cazzari che mi dicono che una forma di magnesio sia meglio per un obiettivo e che una forma di magnesio sia meglio per un altro obiettivo quindi qual è il miglior magnesio da andare a prendere per il mio obiettivo obiettivo X questa è anche una questione che si è presentata quando ho lanciato il mio multivitaminico senza stronzate perché sì ci voleva un nome forte perché qua ci fosse stato un brand di integrazione che abbia lanciato un multivitaminico con le palle quello multivitaminico con le palle creato dall'A alla Z da me quindi non conto terzi come fanno anche molti brand italiani no, quello tutto il processo l'ho controllato io e quando l'ho lanciato ricevo avuto alcune domande di alcune persone confuse che mi dicevano ed ho mai sentito dire che questa forma è migliore di questa adesso, benché abbiamo già risposto a tutte queste persone con il materiale scientifico ti ne vado a parlare anche qui su YouTube punto numero 1 la cosa più importante del magnesio è che sia una forma chelata cosa significa forma chelata? significa la forma, tra virgolette, molto più semplicemente la forma più assorbibile dal punto di vista del nostro corpo e quindi, come possiamo quindi distinguere forma chelata e forma non chelata è un po' l'equivalente delle vitamine attive e non attive per esempio qua, questo è il multivitaminico con il maggior quantitativo di vitamine attive non se ne trova uno con più vitamine attive chiaramente vitamine attive significa che vengono assorbite maggiormente fra l'altro nel momento in cui uscirà questo video lo sto registrando prima ma sarà uscita la nuova fornitura di multivitaminico senza stronzate quindi metto il link qui sotto è la miglior pagina di presentazione di un integratore vattelo a leggere oppure vattelo a comprare fa ancora prima ecco, la differenza è che tu non vuoi andare a prendere integratori che contengano magnesio solfato e magnesio ossido moltissimi brand continuano ad utilizzare la forma ossido e la forma solfato che sono le forme più economiche ma che non vengono praticamente ben assorbite dal corpo ecco, quelle sono sole e ci sono tantissimi brand non farò i nomi qua ma i brand più blasonati lo vanno ad utilizzare che per esempio contengono il magnesio ossido quindi attenzione secondo punto la questione del edo ma io ho sentito dire che ci sono delle forme di magnesio che sono più assorbibili delle forme di magnesio che sono meglio per alcuni obiettivi magari per andare a dormire meglio la risposta è che ad oggi non c'è nessuna di queste informazioni dimostrate non vi è la dimostrazione che vi sia una forma superiore alle altre se non quella che ho utilizzato io il magnesio citrato l'ho utilizzata perché chiaramente è quella che va ad avere più materiale scientifico in termini di biodisponibilità quindi di assorbimento in termini di sicurezza nel senso che va a creare i minori stando alle informazioni scientifiche quindi non perché lo pensi io che anche qui alcune persone pensano che io abbia delle teorie no, io non ho teorie io ho materiale scientifico se il magnesio viene dimostrato qualcosa io ho tutti questi multivitaminici di fine ne lancio uno nuovo non ho partiti presi ora dopo mi toccherà anche andargli a raccattare comunque ad oggi se proprio dovenessimo sceglierne uno quello più dimostrato in termini di sicurezza per non andare a creare problemi stavo dicendo prima gastrointestinali e di diarrea per un maggior assorbimento risulta essere il magnesio citrato ma in realtà se tu volessi andare a prendere qualsiasi altra forma chelata tendenzialmente stando alle informazioni scientifiche possono andare bene tutte semplicemente ho utilizzato la citrato perché è la più studiata e sembrerebbe essere quella con la maggior biodisponibilità ma come dicevo non è un qualcosa di cui preoccuparsi quando si va a prendere una forma chelata più o meno si equivalgono stai prendendo comunque un prodotto di qualità se chiaramente poi il brand ti dà la tracciabilità di dove ha comprato la materia prima io per esempio la do basta scrivere all'email che c'è sulla pagina di presentazione e do tutte le certificazioni e fra l'altro ho anche utilizzata la forma citrato perché è la forma che ci permette di andare ad includere il maggior quantitativo di magnesio nel minor quantitativo di capsule e questo ve lo do come contenuto bonus se magari chi vuole provare a copiarmi la formulazione sa che gli conviene utilizzare quella quarto punto il magnesio è un buon integratore per andare a dormire quindi per aiutarci a dormire ora qui è veramente una delle voci che circola da tantissimo tempo andare ad assumere il magnesio per dormire meglio perché si ipotizza che vada a regolare il ciclo sonno-veglia e che vada a promuovere il buon riposo e perché gli studi ci dicono che in caso di carenza di magnesio il sonno potrebbe andarne a risentire in realtà purtroppo questa roba qua ancora non è dimostrata quindi quando senti parlare del magnesio come fonte certa per dormire meglio sono speculazioni ad oggi infatti abbiamo una meta-analisi che ci dice che al massimo il magnesio sembrerebbe andare ad aiutare ad addormentarsi più velocemente ma che non vada ad impattare né sulla durata né sulla qualità del sonno quindi tendenzialmente ad oggi a meno che una persona non sia in uno stato di carenza di magnesio e un modo oltre all'analisi della propria alimentazione è proprio andarsi a fare delle analisi del sangue fatte bene potrebbe non servire andare a prendere il magnesio magari prima di andare a dormire sperando di dormire meglio ci sono altri integratori più provati scientificamente che magari conviene andare a prendere ho tanti video sul canale e ho anche la mia guida la rivoluzione su integrazione che va a spiegare con tutti gli stack pronti per ogni singolo obiettivo uomo o donna ma ne parliamo comunque dopo che ti va a dare proprio gli stack pronti per esempio per andare a dormire comunque il link è in descrizione nei commenti punto numero 5 la carenza di magnesio può andare a creare crampi ora io su questa tematica ho già fatto un video perché cosa si sente molto spesso andare a dire eh ma se sei carente di elettroliti se non sei ben idratato potresti avere crampi in realtà di questa roba qua non c'è dimostrazione scientifica se vuoi chiaramente giustamente cercare di non essere carente di elettroliti fra cui anche il magnesio e puoi essere ben idratato sicuramente male non fare ma da un punto di vista di crampi come parlo per appunto in questo video qua non ci sono dimostrazioni che andare ad essere carente di magnesio vada a provocare crampi muscolari derivanti per esempio dallo sport punto numero 6 e anche questa è stata una delle tematiche che si è più presentata quando lanciai il multivitaminico senza stronzate qualche mesetto fa ovvero ma il magnesio se io vado a prendere per esempio del magnesio e dello zinco che per esempio sono entrambi all'interno perché sono i due minerali di cui la maggior parte delle persone finisce per essere carente stando alle informazioni scientifiche quindi non stando a me non rischio che il magnesio e lo zinco vadano a compromettersi quindi perché un multivitaminico o per esempio un composto di ZMA che è zinco e magnesio lo dovrei andare a prendere oppure no? la risposta è che ad oggi stando alle informazioni scientifiche non c'è problemi ad andare a prendere più minerali contemporaneamente a patto che non si vada a superare gli 800 mg ora in un'ottica di dosaggi come esempio è stato creato in multivitaminico senza stronzate siamo ampiamente sotto in un'ottica di dosaggi di mantenimento a questi livelli qua quindi tendenzialmente non c'è problemi se però chiaramente vai a fare un'integrazione a caso vai ad assumere un sacco di minerali di cui non hai bisogno come per esempio per la maggior parte delle persone andare ad integrare il calcio ecco che attenzione perché il calcio può andare ad compromettere l'assorbimento di magnesio e di zinco se andiamo ad utilizzare alti quantitativi di calcio perché è facile arrivare con il calcio agli 800 mg e quindi puoi andare a compromettere l'assorbimento di tutto quindi fate attenzione però se si vanno a fare le cose con la testa adesso ne andiamo a parlare non si ha bisogno settimo punto qual è il dosaggio giusto? ora stando alle informazioni scientifiche la maggior parte degli esseri umani adulti ha bisogno di un quantitativo di 300 bar a 400 mg giornalieri derivante dall'alimentazione ora se con l'alimentazione non ci si arriva e si sa di quanto non ci si arriva per esempio non ci si arriva di 100 mg una persona può prendersi il suo integratore di magnesio di qualità come abbiamo visto prima andare ad integrare e essere a posto se una persona non si può fare l'analisi del sangue non ha voglia di andare a monitorare la propria alimentazione gli studi ci consigliano un dosaggio di 200 mg di magnesio giornaliero che per l'appunto è stato inserito nel multidaminico senza stronzate in realtà ne è stato inserito un po' di più perché non volevo andare a utilizzare riempitivi e cipienti vari quindi abbiamo riempito la capsula proprio al massimo con il magnesio ce ne sono 230 invece dei 200 così almeno proprio siamo sicuri però ecco in lira generale se tu non sai di raggiungere il giusto quantitativo di magnesio se ti vai a prendere 200 mg anche con un integratore separato quindi non hai bisogno di un multidaminico puoi andarti a proteggere in termini di evitare le carenze quindi hai capito di che livello di informazioni stiamo parlando non sentito dire hai visto tutti gli studi passarti davanti io ricordo che tutte queste informazioni sono applicate nella mia guida alla rivoluzione sull'integrazione che ti va a spiegare come andare a utilizzare ogni singolo integratore come andarlo a mixare per l'aumento della massa muscolare per dormire meglio per studiare per avere più energia al mattino integratori per la salute cardiovascolare per le erezioni per la libido per gli uomini per le donne per l'aumento del testosterone per l'abbassamento degli estrogeni andiamo a parlare di integratori per la pelle per i capelli per i reni parliamo di tutto in continuo aggiornamento e tutti gli aggiornamenti sono gratuiti a vita si paga veramente una volta e poi basta a un prezzo ridicolo ti costa meno di un integratore scadente e ti dice proprio guarda al mattino se il tuo obiettivo è questo prendi questo questo e questo la sera prendi questo questo e questo hai già tutto fatto oltre a ciò ti vado a fornire una lista che ti vado a fornire chiaramente io di tutti i brand che vado ad analizzare che ritengo validi che non ti tirano sole quindi vuoi prenderti del magnesio ti dico tutti i brand che producono dei composti di qualità in continuo aggiornamento gli aggiornamenti sono gratuiti a vita anche di quelle la pagina te la lascio giù in descrizione nei commenti o puoi andare sul mio sito e ricordo che tutti i membri hanno il mio supporto a vita e mail per togliersi tutte le domande del caso noi come sempre ci vediamo tutti i giorni a luna mi raccomando attenzione a non farvi influenzare dalla mala informazione ci vediamo tutti i giorni a luna ciao a tutti peace